Il Signore è creatore del cielo e della terra, il principio e quina di ogni creatura sia con tutti voi. Noi, convinti del contrario, prendiamo opposizione e nel nostro convegno ecclesiale partiamo proprio da essa. Il convegno regionale si colloca entro il cammino di preparazione al quinto convegno ecclesiale nazionale che si celebrerà a Firenze dal 9 al 13 novembre al titolo In Gesù Cristo, il nuovo umanismo. Professor Fusco Giratti. Grazie a tutti i conflitti tra lo sviluppo economico, la tutela del benessere, della salute delle persone e la valorizzazione delle risorse paesaggistiche, culturali e la qualità dell'aria, dell'acqua, del suolo e quindi nel mio interno di ambito. Facciamo un applauso aggiuntivo perché siamo contenti di questo del CNR di Napoli e l'Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambiente. La metodologia per l'Analisi Ambiente del CNR che mi ha autorizzata a dividere con questa platea quelle che sono state le attività di ricerca del CNR IMA per questa vostra presenza, una presenza non coreografica perché la particolarità del nostro convegno è proprio questa. Noi oggi vogliamo offrire l'occasione per ascoltarci. Ci viene a volte anche penalizzato. Ecco, ci mettiamo comunque con la stessa intensità, con la stessa... C'è un'antica distinzione aristotelica tra l'economia e crematistica. L'economia è la buona gestione della casa, la crematistica è il fare affare, il fare monetaria come fanno gli economisti, dei possibili costi ambientali. Passiamo subito la parola al professore Emanuele Capini. ...e che vediamo i scopi locali. Partiamo col dire che i drogacalburi sono ovviamente sostanze pericolose. In questo proposito ci si è consentito di ringraziare i relatori per il loro puntuale contributo di oggi. In secondo luogo, una informazione oggettiva... ...e che riguarda adesso il laboratorio che ho coordinato insieme al collega Luigi Sasso è stato un laboratorio molto partecipato. Oltre a 100 persone, il laboratorio ogni... ...e questa percezione di un percorso o in percorsi concreti di prevenzione. E poi, ma possibile che una regione come la nostra, segnata da questi fattori inquinanti... ...per esempio, i consiglieri regionali si sono guardati bene da venire. Qualcuno ha fatto capire questo? Che era pericoloso esporsi su un problema così attuale. Noi abbiamo inteso prepararci a questo convegno riflettendo su tre tematiche che secondo noi, secondo il Comitato regionale, qui ci guarda, allora secondo noi, sono tre ambiti fondamentali per la nostra regione. quali sono questi tre ambiti? La bellezza, abbiamo fatto un convegno a Matera dove abbiamo scritto fede e bellezza. La via, la via della bellezza, fede e arte. La via della bellezza. Qual è quello di oggi? Quello di oggi era per dire salute, ambiente e lavoro. Quasi per dire la domanda o profetica oggi la domanda a cui risponderò. Terzo convegno sarà fra una settimana, il 29 di ottobre sulla pietà popolare come fede incarnata, fede inculturata. Abbordate un documento importante adesso che è la ciprica di Papa Francesco. Studiamo questo documento. Se abbiamo, se avete idee da proporre fate insieme. ragazzi, insieme dobbiamo sentirci protagonisti. Senza recriminare anche qui. La Chiesa è stata zitta come se la Chiesa fosse dei sei mesi, però la Chiesa siamo tutti quanti noi. Ovviamente noi abbiamo una responsabilità grande anche rispetto a tutto. Signore sia con voi e con il tuo Spirito e benedica di ogni potente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amo Benediciamo il Signore e preghiamo grazie a Dio Maria, Madre della Chiesa preghiamo facciamo l'applauso ai professori gli diciamo grazie Grazie a tutti.